Incidente stradale sulla 640 in direzione di Caltanissetta, 15 minuti dopo la mezzanotte, è stato un automobilista a chiedere l'intervento alle forze dell'ordine e ai soccorsi per un incidente che ha coinvolto quattro auto sulla strada statale 640 in prossimità della galleria Roverello in direzione Caltanissetta. Sono state tre le pattuglie dei carabinieri intervenute e anche un'ambulanza del 118, vigili del fuoco, personale ANAS e soccorso stradale. Ad essere coinvolti nell'incidente sono stati una 43 anni di San Cataldo alla guida di una Golf, una Lancia Ipsilum guidata da una ragazza di Caltanissetta di 19 anni, una BMW condotta da un ventenne nisseno e un Alfa Romeo Giulietta guidata da un 27enne di Enna che è stato poi trasportato in ospedale con codice verde e succedente. successivamente dimesso.